Pronte a vedere la notizia bomba? Sì? Gli eventi di questa settimana, dal 15 al 22 luglio, hanno portato la storia, a un livello completamente nuovo, di emozioni e colpi di scena. Manuel e Ximena, una coppia che credevamo indistruttibile, sono al centro di una tempesta, che minaccia di distruggere tutto. Catalina si ritrova a lavorare con dedizione, ma il suo impegno viene interrotto da Lorenzo, che su richiesta di Cruz si offre di supervisionare ulteriormente i conti della fattoria. Questa interferenza potrebbe nascondere secondi fini e portare a nuove tensioni. Il sergente Funes arriverà con una notizia devastante per Petra e Feliciano. Il padre di Feliciano è morto in un terribile incidente. Questo tragico evento costringerà i due a fare i conti con il dolore e a prendere decisioni difficili riguardo al loro futuro. Manuel prenderà una decisione definitiva riguardo alla sua relazione con Ximena. Scopriremo come questa scelta influenzerà entrambi e quali saranno le conseguenze delle azioni di Ximena. Sei già iscritta al canale? Iscriviti subito e scopri cosa succede ora. Proprio quando pensi che le cose non possano complicarsi ulteriormente, Manuel riceve una lettera dalla Guardia Civile che gli vieta di volare. È come se il destino stesse cercando di trattenere Manuel, ma per quale motivo? La decisione impulsiva di Manuel di ignorare la lettera della Guardia Civile scatena una discussione furiosa con Ximena, un confronto che porta a galla tutte le bugie e i tradimenti. Immaginate Manuel, con gli occhi pieni di rabbia e delusione, che affronta Ximena. «Come hai potuto?» urla, la voce carica di dolore e incredulità. Ximena, sorpresa e terrorizzata, cerca di spiegarsi, ma Manuel non vuole più sentire bugie. In realtà, dietro tutto questo, c'è una confessione sconvolgente da parte di Margarita. Una sera, mentre la tensione nel palazzo è tangibile, Margarita si avvicina a Manuel con occhi colmi di ansia e una voce che trema. Ogni parola che pronuncia è un colpo al cuore di Manuel. «Devo dirti qualcosa», inizia, la voce rotta dall'emozione. «Manuel», ignaro del peso di ciò che sta per ascoltare, la osserva con attenzione, preoccupato. «È Ximena», continua Margarita, «le lacrime che minacciano di scendere. È lei che sta dietro a tutti gli ostacoli e le difficoltà che ha incontrato di recente. Lei è Cruz». La rivelazione lascia Manuel senza parole. Un vortice di emozioni contrastanti lo travolge. Incredulità, rabbia, dolore. La donna che amava, quella in cui aveva riposto tutta la sua fiducia, si è rivelata essere l'artefice dei suoi tormenti. E non è sola. Cruz, con la sua fredda determinazione, è coinvolta a sua volta, tessendo una rete di inganni e tradimenti. Il volto di Manuel si contorce in una smorfia di dolore e rabbia. «Non può essere vero», mormora, «più a se stesso che a Margarita». Ma la sincerità negli occhi di lei è inconfondibile. La verità è troppo chiara per essere negata. L'istinto di ribellione di Manuel prende immediatamente il sopravvento. Sentendo crescere dentro di sé una furia incontrollabile, decide di ignorare la lettera della guardia civile che Guy vieta di volare. Con un gesto impulsivo, Manuel prepara le sue cose, determinato a partire. Questa decisione, tuttavia, scatena una tempesta nel palazzo. Jimena, avvertita della sua decisione, corre da lui, cercando di fermarlo. «Manuel, non puoi fare questo!» esclama, la voce piena di disperazione. Ma Manuel non vuole sentire ragioni. La rabbia e la delusione che prova sono palpabili, quasi tangibili nell'aria. «Come hai potuto, Jimena?» urla Manuel, la sua voce che rimbomba nella stanza. «Hai giocato con me, con i miei sentimenti! Tu e Cruz mi avete manipolato, tradito!» Jimena cerca di difendersi, di spiegare, ma le sue parole cadono nel vuoto. Manuel è troppo ferito per ascoltare. «Non è come pensi», prova a dire Jimena. Ma Manuel la interrompe, avanzando verso di lei con passi decisi. «Non voglio più sentire le tue bugie!» grida, il viso contratto dalla collera. Con un gesto furioso, prende una foto di loro due da un tavolo e la scaglia contro il muro. Il vetro si frantuma in mille pezzi, un simbolo doloroso della loro relazione distrutta. «Vattene!» dice Manuel, con una voce fredda e determinata, puntando il dito verso la porta. «Lascia questo palazzo immediatamente. Non voglio vederti mai più!» Jimena, sconvolta e in lacrime, non ha altra scelta se non raccogliere le sue cose e uscire dalla stanza. Ogni passo che fa lontano da lui è un ulteriore colpo al cuore, ma sa che è troppo tardi per rimediare. Manuel rimane lì, nel silenzio, guardando il caos intorno a lui. Il dolore e la delusione sono così intensi che sente di non poter respirare, ma sa che deve andare avanti, deve trovare la forza di ricostruire la sua vita anche senza Jimena. La loro storia è finita e tutto ciò che rimane sono le cicatrici di un amore tradito. Come se non bastasse, Cruz non si ferma qui. È implicata in altre attività allosche, sempre più intricate e pericolose. Con astuzia riesce a non lasciare tracce del suo coinvolgimento nella misteriosa scomparsa di Ramona, coprendo ogni sua mossa con estrema attenzione. Il suo sguardo freddo e calcolatore non tradisce mai l'ombra di un dubbio, mantenendo la sua immagine di donna impeccabile. Ma dietro quella facciata, Cruz continua a guadagnare denaro in modo discutibile dalla vendita di marmellate, un business che sembra innocente ma che nasconde affari molto più sporchi. La tensione nel palazzo è alle stelle. Ogni sussurro, ogni sguardo, ogni passo rimbomba nelle sue antiche mura, amplificando un'atmosfera già carica di sospetti e paura. Gli abitanti del palazzo camminano sulle punte, consapevoli che un singolo passo falso potrebbe scatenare una tempesta. La Marchesa, percependo l'inevitabilità di un'esplosione di conflitti, decide di intervenire con una mossa audace. Con la maestria di una regista, la Marchesa organizza una festa in costume nel più puro stile veneziano. L'obiettivo è chiaro, calmare gli animi, distogliere l'attenzione dai crescenti conflitti e riportare un'apparente normalità. La preparazione dell'evento è un'impresa titanica, con ogni dettaglio curato nei minimi particolari, per assicurare che la festa sia un successo. La notte della festa, il palazzo si trasforma in una scena da sogno. Maschere elaborate e costumi sontuosi riempiono le sale, creando un'atmosfera di mistero e intrigo. Le luci soffuse, le musiche melodiche e il fruscio dei tessuti pregiati trasportano gli ospiti in un'altra epoca, lontana dalle tensioni quotidiane. Ma sotto quella superficie di eleganza e raffinatezza, il conflitto continua a ribollire, pronto a esplodere al minimo accenno di provocazione. La Marchesa si muove tra gli ospiti con un sorriso enigmatico, consapevole che la pace ottenuta potrebbe essere solo temporanea. La sua speranza è che questa serata di sfarzo e glamour riesca almeno per un momento a far dimenticare le tensioni, offrendo una tregua in un periodo di turbolenze. Ma nel cuore della festa, gli sguardi furtivi e le conversazioni sussurrate rivelano che la quiete è solo apparente. Gli invitati sono come pedine in una partita di scacchi, ognuno con il proprio ruolo e le proprie intenzioni nascoste. E mentre la musica continua a suonare e le risate riempiono l'aria, la vera natura delle alleanze e dei tradimenti rimane celata dietro maschere di velluto e sorrisi di circostanza. La festa in costume della Marchesa, pur essendo un capolavoro di distrazione e fascino, non può cancellare le ombre che si addensano sul palazzo. Cruz, con i suoi piani machiavellici e la sua determinazione implacabile, rimane una minaccia costante. E mentre la notte avanza, la domanda che aleggia nell'aria è chiara. Quanto a lungo potrà durare questa fragile tregua prima che i segreti e le bugie emergono di nuovo in superficie? Nel frattempo, Petra è travolta da un sentimento di profonda delusione e tradimento. Suo fratello Feliciano, una volta un alleato fedele e un punto di riferimento familiare, ha deciso di schierarsi con Teresa e gli altri colleghi di servizio, voltando le spalle alla sua stessa famiglia. Petra non riesce a comprendere come Feliciano possa abbandonare il loro legame fraterno per appoggiare coloro che considera estranei. Questa frattura familiare si intreccia magistralmente con le trame principali della storia, aggiungendo ulteriore profondità emotiva e strati di complessità ai personaggi. Feliciano, nel suo cuore, è combattuto. Sa di aver preso una decisione difficile, ma crede fermamente che sia la cosa giusta da fare. Tuttavia, ogni sguardo di disapprovazione di Petra è una ferita che brucia, una costante memoria del suo sacrificio. Mentre cerca di fare i conti con le conseguenze delle sue azioni, la situazione prende una piega drammatica con l'arrivo del sergente Funes. Funes, con il volto segnato dalla gravità della notizia che porta, si avvicina a Feliciano. «Devo parlarti», dice con una voce bassa e solenne. Feliciano, sentendo il tono preoccupato del sergente, si prepara al peggio. «Tuo padre è morto in un incidente». Le parole di Funes colpiscono Feliciano come un pugno allo stomaco. Il mondo sembra fermarsi mentre cerca di processare l'inimmaginabile. Petra, ascoltando la notizia, sente il cuore spezzarsi. Le lacrime scorrono liberamente, mentre il dolore per la perdita del padre e il tradimento percepito del fratello si mescolano in un turbine di emozioni devastanti. Questo tragico evento costringe Feliciano a mettere in pausa i suoi conflitti interni e le sue lotte personali. Deve partire con Petra per seppellire il loro padre, un viaggio che diventa non solo un momento di lutto, ma anche un'opportunità per riflettere sulle sue scelte e sulle loro ripercussioni. Durante il viaggio, i silenzi tra Feliciano e Petra sono carichi di tensione e dolore, ma anche di una possibilità di riconciliazione. Entrambi cercano un modo per superare il dolore e ritrovare un legame che sembra irrimediabilmente spezzato. In mezzo a tutto questo, i sospetti di Feliciano riguardo a Romulo aumentano. L'offerta di addestrarlo come maggiordomo, che inizialmente sembrava un'opportunità d'oro, ora appare sotto una luce sospetta. Feliciano non può fare a meno di chiedersi se ci sia un secondo fine dietro la generosità di Romulo. Le sue intuizioni lo spingono a essere più cauto e a guardare ogni gesto e parola con occhi nuovi, cercando segni di inganno o manipolazione. Mentre Feliciano e Petra si preparano per il funerale, l'atmosfera è pesante di dolore e di interrogativi irrisolti. La perdita del padre diventa un catalizzatore per riflessioni profonde e per un possibile cambiamento. Feliciano, pur immerso nel lutto, sa che deve tornare e affrontare non solo il suo passato, ma anche il futuro incerto che lo attende al palazzo. L'intera vicenda di Feliciano e Petra arricchisce la narrazione principale con un dramma familiare che tocca corde emotive profonde. Questo segmento della storia sottolinea come le relazioni umane siano complesse e intrecciate, influenzando e venendo influenzate dagli eventi circostanti. Romulo, d'altra parte, ritiene che Mauro sia finalmente pronto per debuttare come maggiordomo. Con uno sguardo che mescola orgoglio e una strana scintilla di mistero, Romulo affida a Mauro il compito di dirigere i preparativi per la festa di Cruz. È il momento, dice, battendo una mano pesante sulla spalla di Mauro. Mostra a tutti di cosa sei capace. Mauro, onorato ma al contempo inquieto, accetta la responsabilità con un sorriso incerto. Tuttavia, man mano che i preparativi avanzano, le intenzioni di Romulo restano a volte nel mistero. Ogni gesto, ogni parola di incoraggiamento sembra nascondere un sottotesto. Mauro, lavorando instancabilmente per rendere la festa un successo, inizia a dubitare della vera natura dell'offerta ricevuta. «Perché proprio io?» si chiede tra sé e sé, osservando Romulo dall'ombra. Le parole di apprezzamento del suo mentore suonano quasi troppo cariche di aspettative. Con il passare dei giorni, Mauro si trova a interrogarsi sempre di più sulle motivazioni di Romulo. Ci sono momenti in cui Romulo sembra osservare Mauro con un'intensità quasi inquietante, come se stesse valutando ogni sua mossa. Questa ambiguità getta un'ombra sul suo nuovo incarico, alimentando sospetti che Mauro non può più ignorare. Nel frattempo, Simona riceve una lettera dal figlio, una missiva che si distingue nettamente dalle precedenti. Con mani tremanti e cuore che batte all'impazzata, Simona apre la busta e scorre velocemente le righe scritte. Le parole del figlio sono diverse, cariche di un tono che non aveva mai sentito prima. Ogni frase sembra nascondere un segreto, ogni parola è un enigma. «Mamma, c'è qualcosa che devi sapere?» inizia la lettera, lasciando Simona in un mare di dubbi e preoccupazioni. Cosa c'è scritto in quella lettera? Quali segreti potrebbe rivelare? Simona passa le notti insonni, rileggendo la lettera alla luce tremolante di una candela. Ogni volta le parole sembrano assumere un nuovo significato, lasciandola a speculare sulle intenzioni del figlio. «Perché ha scritto in questo modo?» si domanda, cercando di decifrare il tono criptico della missiva. Questa lettera misteriosa non solo scombussola Simona, ma inizia a influenzare le dinamiche all'interno del palazzo. Gli altri abitanti notano la sua inquietudine e i sussurri corrono veloci tra i corridoi. Le domande si moltiplicano. Cosa nasconde quella lettera? È possibile che il figlio di Simona sia coinvolto in qualcosa di più grande, qualcosa che potrebbe scuotere le fondamenta stesse del palazzo? Simona, combattuta tra il desiderio di proteggere suo figlio e la necessità di capire la verità, diventa sempre più riservata e distante. Ogni interazione con gli altri diventa un atto di equilibrio precario, mentre cerca di mantenere il segreto nascosto, ma anche di trovare un modo per affrontarlo. Il peso del mistero la schiaccia e ogni sguardo furtivo e conversazione sussurrata aggiunge ulteriore pressione. Le conseguenze della lettera di Simona e i dubbi di Mauro riguardo a Romulo creano un ambiente carico di tensione e incertezza. Gli equilibri di potere all'interno del palazzo sono più instabili che mai e ogni personaggio sembra muoversi su un filo sottile, cercando di mantenere il proprio segreto nascosto mentre cerca di svelare quelli degli altri. Nel frattempo, Hanna e Abel trovano conforto l'uno nell'altra proprio nel mezzo di questo tumulto incessante. La loro storia d'amore sboccia come un fiore delicato tra le crepe del caos, offrendo un contrasto affascinante e una speranza di redenzione e pace in un contesto altrimenti dominato da inganni e conflitti. Ogni sguardo che si scambiano, ogni carezza e ogni parola sussurrata portano una scintilla di luce in un mondo che sembra sempre più avvolto dall'oscurità. Hanna, con la sua dolcezza e il suo spirito gentile, trova in Abel un rifugio sicuro. Abel, con la sua forza e il suo coraggio, vede in Ana una fonte di ispirazione e serenità. Insieme creano un piccolo mondo fatto di comprensione reciproca e affetto sincero. Le loro passeggiate serali nei giardini del palazzo, i momenti rubati nelle stanze appartate, diventano attimi preziosi di felicità che contrastano nettamente con la tensione crescente che li circonda. Tuttavia, la presenza di Manuel, con il suo spirito ribelle e la sua instancabile ricerca di giustizia, aggiunge un elemento di imprevedibilità che minaccia questa fragile nuova relazione. Manuel, immerso nelle sue indagini e consumato dalla sua determinazione a smascherare Cruz e Ximena, sembra inconsapevole di come le sue azioni possano influenzare coloro che gli sono vicini. Abel ammira profondamente Manuel e la sua determinazione, ma non può fare a meno di preoccuparsi per l'impatto che questa battaglia incessante ha su Hana e sulla loro relazione nascente. Ogni volta che Manuel svela un nuovo tassello del complotto, le onde di shock si propagano attraverso il palazzo, minacciando di travolgere anche i momenti di serenità che Abel e Hana cercano disperatamente di proteggere. Hana, d'altra parte, è divisa tra il sostegno al suo amato Abel e la preoccupazione per Manuel, vede la sofferenza e la rabbia di Manuel e desidera ardentemente che trovi la pace che merita, ma teme anche che la spirale di conflitti e rivelazioni possa alla fine distruggere ciò che lei e Abel stanno cercando di costruire insieme. Una sera, mentre le ombre si allungano e il palazzo sembra respirare il peso di innumerevoli segreti, Hana e Abel si rifugiano in una delle stanze appartate del giardino. Abel, con uno sguardo serio, prende le mani di Hana tra le sue. «Hana, so che le cose sono difficili ora, ma voglio che tu sappia che non importa cosa succeda, io sarò sempre qui per te». Hana, con gli occhi lucidi di emozione, risponde con un sorriso tremante. «So che lo sarai, Abel, e io sarò sempre al tuo fianco, ma dobbiamo essere forti, dobbiamo trovare un modo per superare tutto questo insieme». In quel momento si rendono conto che la loro relazione è una luce di speranza in un mondo altrimenti dominato dalle ombre, ma sanno anche che dovranno lottare per mantenerla viva, contro ogni avversità e ogni minaccia che si presenta. Manuel, ignaro della delicatezza della situazione di Hana e Abel, continua la sua ricerca di giustizia con la stessa intensità. Ogni nuova scoperta, ogni passo avanti nella sua indagine, porta inevitabilmente nuove tensioni. La sua presenza carismatica e la sua incrollabile determinazione sono come un vento impetuoso che scompiglia tutto ciò che incontra sul suo cammino. Ma in questo turbinio di emozioni e conflitti, Hana e Abel trovano la forza di andare avanti. Ogni difficoltà che superano insieme, ogni momento di incertezza che affrontano, li rende più forti e più uniti. La loro storia d'amore, nata in un momento di grande tensione, diventa un simbolo di speranza e resilienza. Nonostante le sfide e le incertezze, Hana e Abel sono determinati a proteggere il loro amore. Sanno che il cammino davanti a loro sarà difficile, ma sono pronti a lottare, fianco a fianco, per costruire un futuro insieme e vedere i prossimi aggiornamenti. Iscriviti al nostro canale e lascia un commento con le tue opinioni e previsioni. Quale sarà il destino di Manuel, secondo te? E Cruz pagherà finalmente per le sue macchinazioni? La tua voce è importante e non vediamo l'ora di leggere il tuo commento.